La troupe di Polifemo è qui a Grottaglie, provincia di Taranto. Siamo infatti presso l'aeroporto Arlotta di Grottaglie e Taranto, un momento molto importante perché qui con la compagnia Alba Star è da poco atterrato il volo che ha portato la Ternana Calcio qui a Grottaglie e Taranto. La Ternana Calcio domenica incontrerà la Virtus Francavilla, la squadra di Francavilla-Fontana per il match di campionato. Un'iniziativa per la quale dobbiamo ringraziare la Soleir, l'unico broker aeronautico pugliese che ha organizzato questo arrivo. Un momento particolare perché la Ternana ha scelto ovviamente lo scalo di Grottaglie in quanto dista appena 11 chilometri da Francavilla-Fontana. Non è solo il fatto l'arrivo di questo volo a partita di calcio di domenica, ma questa realtà, questo evento ci fa capire molto, ci dà spunto a tantissime riflessioni per quanto riguarda le potenzialità di questo aeroporto. Un aeroporto che purtroppo dalla Regione Puglia è stato quasi marginalizzato in un'ottica solo di cargo e di voli aerospaziali. Per carità ben vengano queste ipotesi, ci mancherebbe altro, però non si può fare turismo, non si può promuovere il territorio senza puntare ovviamente sui voli passeggeri. Questa è la chiave di volta per uno sviluppo di una città assolutamente turistica quale è Taranto. Noi capiamo perfettamente le resistenze della Regione Puglia, in particolar modo perché si vogliono favorire gli scali di Bari e di Brindisi, i quali perderebbero il pane quotidiano se ovviamente i voli passeggeri, in partenza e in arrivo, vi fossero anche qui all'Arlotta. Però non devono esistere figli e figliastri, cittadini di serie A, cittadini di serie B. Taranto è una città stuprata dalla questione ambientale e ha bisogno di ossigeno puro. Questo ossigeno puro te lo dà il turismo e il turismo lo si fa con i voli passeggeri. Sono delle riflessioni che ho voluto fare perché vedete una bella realtà, una bella struttura e poi quando entri in buona sostanza poi per quanto riguarda i voli passeggeri vedi il buio, il silenzio assoluto, il senso del deserto e questo ci amareggia. Ma queste sono così delle riflessioni che ho voluto fare. Ma ora godiamoci questo evento e quindi ascolteremo Gravina che è appunto il responsabile commerciale, il direttore commerciale del broker Soleir, il comandante dell'Alba Star e l'avvocato Fischetti che è appunto il presidente del comitato pro aeroporto Grottaglie Taranto. Polifemo vuole bene al territorio di Taranto, combatte per Taranto, per il turismo, per lo sviluppo economico. Uno sviluppo economico è un turismo che deve necessariamente ed imprescindibilmente passare dai voli passeggeri. Ed eccoci con l'equipaggio dell'Alba Star, il comandante Giuseppe Ortenzi, benvenuto a Grottaglie, aeroporto Arlotta, Grottaglie Taranto. Beh, certamente una sensibilità da parte di Alba Star per aver puntato su questo aeroporto, un aeroporto che è importante soprattutto ai fini turistici perché in questo modo si movimenta l'economia, si fa crescere il territorio. C'è stata certamente la sensibilità, la lungimiranza appunto di Alba Star nello scommettere e nel vincere questa scommessa. Sì, noi come azienda in questo momento di forte crisi stiamo puntando allo svolgimento delle nostre attività con grande professionalità, soprattutto negli aeroporti che si stanno rilanciando. Taranto è uno di questi. Abbiamo trovato una struttura completamente nuova dal punto di vista logistico, anche strumentale, ed una magnifica accoglienza. Questo ci fa molto molto piacere e ben sperare anche per il futuro. L'auspicio che come mezzi, come strumenti di comunicazione abbiamo, rivolgiamo, è che ben vengano le altre destinazioni di grottaglie dell'Arlotta, il cargo, l'aerospazio, però i voli passeggeri sono strategici, sono importanti ai fini dell'economia, dello sviluppo del territorio, del turismo in un'area depressa come purtroppo è Taranto per le note vicende ambientali e soprattutto in un momento particolare come questo del Covid. Diciamo che è una boccata di ossigeno, una iniezione di fiducia che voi come Alvastar avete voluto dare alla comunità tarantina. Esatto, sì. Noi in questo periodo di chiusura totale stiamo cercando di fare del nostro meglio, implementando il più possibile i dispositivi di sicurezza nei nostri voli, sperando in una riapertura totale del turismo e delle zone in modo tale da poter garantire collegamenti in tutta sicurezza in funzione delle normative anti-Covid. Comandante, grazie. La comunità ionica tarantina ha voluto, tra virgolette, prendervi per la gola, ha voluto omaggiarvi con delle zeppole così locali, proprio a dimostrazione di un piccolo gesto diciamo di affetto, di gratitudine per la scommessa per aver puntato su di noi. Grazie. Grazie a voi per questa meravigliosa accoglienza e speriamo di rivederci presto per un ulteriore volo. Francesco Gravina, direttore commerciale della Soleir, unico broker aeronautico pugliese, insieme ad Alvastar Soleir ha organizzato questo volo che ha portato la Ternana Calcio qui all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Un momento importante di lustro per il territorio che ci fa vedere le potenzialità finora inespresse a livello di voli civili ma davvero fondamentali, importantissime, preziose per il territorio, dell'Arlotta aperto ai voli passeggeri. Sì, questa richiesta della Ternana inizialmente era stata richiesta su Brindisi perché loro non avevano l'esistenza di questa infrastruttura. Poi noi facendo consulenza tutto tondo a molti club, noi serviamo oltre 12 club di serie B, prevalentemente quasi tutti con Alvastar e quindi loro sono rimasti sbalorditi del fatto di avere un aeroporto a pochi chilometri da Francavilla Fontana dove giocheranno domani e hanno accettato subito questa proposta, quindi quando le cose si vogliono fare si fanno. Alvastar ovviamente ha dimostrato estrema sensibilità verso il territorio, evidentemente ha avuto la lungimiranza, la capacità di saper cogliere le potenzialità di questo aeroporto. Sì, loro già conoscevano di questa infrastruttura e quindi non hanno dubitato minimamente, subito richiesto gli slot e li hanno ottenuti. Si apre un po' il fronte alle riflessioni, ai rimpianti, alle sfide, far sì che l'Arlotta diventi un aeroporto aperto sempre e comunque ai voli passeggeri. Ben venga l'aerospazio, ben venga il cargo, ma se si vuole fare turismo è una follia rinunciare ai voli passeggeri dall'Arlotta. Sì, in effetti l'infrastruttura è fondamentale, quindi l'infrastruttura esiste, quindi non comprendo perché non debba essere sottopotenziata per le attività passeggeri, quindi l'infrastruttura c'è. E Soleil fa tanto per promuovere il territorio, questa di oggi è un'iniziativa che si può chiaramente definire, e lo è, di marketing territoriale. Non è solo un'impresa che fa business, ma stiamo parlando di un modo per far crescere il territorio, far decollare la realtà ionica, Taranto e la sua provincia, in un momento difficilissimo che stiamo tutti vivendo. Certamente, sì, sicuramente, noi facciamo del nostro meglio, abbiamo già dimostrato in passato, negli anni passati abbiamo fatto voli sia per Sarajevo, Mostar, Lourdes, sempre in partenza e arrivo qui su Taranto, sull'aeroporto di Taranto, quindi per noi è una cosa molto semplice realizzarli. Se c'è l'intenzione di voler fare anche di più, come già stiamo dando supporto su Tripoli, Bencasi e Malta, perché ci hanno chiesto la consulenza per l'attivazione di alcuni servizi elicotteristici, potremmo fare altrettanto anche qui per Taranto. In bocca al lupo. Grazie. Siamo con l'Avvocato Walter Fischetti, Presidente del Comitato Pro Aeroporto di Grottaglie Taranto, una occasione che ci fa capire come l'aeroporto di Grottaglie, aperto ai voli civili, sarebbe davvero una ricchezza per il territorio. Parliamo di crisi occupazionale, di questione ambientale, abbiamo una risorsa, il turismo, però il turismo non ha senso se si tagliano le ali ai voli civili, ai voli passeggeri. Oggi l'arrivo della Terdana Calcio ci fa capire come effettivamente noi abbiamo delle potenzialità enormi. Dobbiamo solo crederci, combattere e stimolare la classe politica, anche metterla con le proprie responsabilità al muro, tra virgolette, per far sì che da Grottaglie ci siano sempre e comunque i voli passeggeri. La crisi Covid, della pandemia, ha zerato proprio i network a livello nazionale, europei, mondiali, si può dire. Gli Stati Uniti non riescono ad arrivare in Europa. La situazione è che sono scomparsi su tutti i gestori aeroportali nazionali il servizio della linea classica che noi eravamo abituati ad assistere. Quindi si prevede un ritorno ante 2019, non prima del 2023 addirittura, come traffico. Quindi Taranto, paradossalmente, non avendo volato per 20 anni, si rilancia ad essere una delle strutture strategiche, tra le più strategiche, perché le compagnie aeree hanno azzerato completamente i loro network classici, Bari, Brindisi, Perino, li hanno azzerati completamente. Quindi è un'occasione imperdibile, favorevolissima, non solo dal punto di vista crocieristico, l'abbiamo visto che è ancora al lato primordiale, ma le compagnie, lo ripeto, da anni arriveranno subito qui. E' questo che è importante, è che una città che ha il suo aeroporto senza i voli passeggeri è una città praticamente commercialmente morta. Anche un solo passeggero che noi dobbiamo trasportare qui rappresenta uno sviluppo economico per la città. Quindi il Tarantino si scordi di ragionare settorialmente, o Porto o Ilva, o Ilva o Aeroporto. Tarantino, senza le sue infrastrutture operative, in primis l'aeroporto che è pronto, è una città morta.